capricorno non sempre le persone gli esseri umani sono pronti a mettersi in gioco in una relazione in particolare questa persona con la quale voi in questo momento state interagendo sembra doversi occupare di problemi di problemi di tipo diverso e quindi ecco che la vita amorosa viene un po' messa in secondo piano potrebbe trattarsi di problemi familiari potrebbe trattarsi di problemi legati comunque o ai genitori o a qualche altro membro della famiglia ad ogni modo si tratta proprio di un problema personale che va risolto e prima di questa risoluzione non credo che questa persona si sentirà libera e serena abbastanza da lasciarsi coinvolgere dalle emozioni e dalla sensazioni piuttosto mi sembra mi sembra che stiamo parlando di qualcuno che ha dei progetti ha dei piani e per portare a termine questi piani deve percorrere delle tappe delle tappe obbligate non può saltarne una non può andare troppo velocemente o troppo lentamente per costruire un palazzo bisogna sempre partire dalle fondamenta ed ecco ciò che lui o lei pensa si sono un palazzo bisogna anche per farlo